Siamo sempre in diretta da Hit Show edizione 2020, in questo caso siamo allo stand di RUAG Italia per una graditissima novità soprattutto per gli appassionati di armi tattiche sportive per il tiro a lunga distanza. RUAG Italia è il nuovo distributore italiano dei prodotti Henel e tra i prodotti più interessanti del catalogo Henel, soprattutto per quello che riguarda la parte tattica, c'è questa carabina che è la CR308, come il nome suggerisce è in calibro 308 Winchester quindi su piattaforma AR10, funziona con pistone a corsa corta, con bandi completamente ambidestri in pugnatura anatomica, è in questo momento una delle armi più interessanti su questa piattaforma disponibile in Italia. Comandi completamente ambidestri, astina con interfacce K-Mode per l'installazione di accessori, l'astina tra l'altro è rapidamente sganciabile per poter provvedere alla manutenzione del pistone e il prezzo al pubblico per quest'arma è di 3200 euro. Siamo sempre allo stand di RUAG Italia per un'interessante combinazione destinata questa volta ai cacciatori, sempre a marchio Henel, che è il nuovo brand che RUAG Italia distribuirà per l'Italia. Si tratta della carabina Bolt Action Jäger 10 in versione synthetic compact che RUAG Italia offre in un interessante pacchetto per il cacciatore. Si può definire un pacchetto pronta caccia, anzi più pronta caccia di così veramente non si può perché la carabina ovviamente è equipaggiata diciamo di ottica, ottica GECO 412x50 con reticolo illuminabile, cinghia di trasporto e addirittura anche un pacchetto di 60 cartucce GECO Express. Quindi di conseguenza con soli 1900 euro è possibile portarsi a casa una carabina che l'unica cosa in più che richiede è semplicemente recarsi sul terreno di caccia per utilizzarla. Quindi si può definire veramente la pronta caccia definitiva per il cacciatore che voglia avere un pezzo dall'elevato rapporto qualità prezzo. Siamo sempre allo stand di RUAG Italia in compagnia di un altro nuovo brand che ha preso RUAG Italia per la distribuzione sul mercato italiano. Si tratta di un marchio estremamente famoso negli Stati Uniti ma non solo, si chiama Streamlight ed è un famosissimo produttore di torce. Torce sia vere e proprie diciamo tradizionali, anche se il termine tradizionale è piuttosto riduttivo per questo tipo di strumenti, sia anche torce tattiche che possono essere applicate sulle pistole. L'assortimento prevede sia torce tra virgolette normali, sia anche torce che prevedono l'integrazione anche del puntatore laser. Parlevamo anche di torce tradizionali e dicevamo che è un termine abbastanza riduttivo. Per esempio questa che è la Protacca HL5X ha una caratteristica estremamente interessante. Oltre alla costruzione ovviamente impermeabile, antiurto e tutto quello che si desidera, ha una potenza straordinariamente elevata che è di 3500 lumen o in modalità continua oppure in modalità strobo. Quindi ha assolutamente una portata e una potenza illuminante veramente rilevanti.